guardate che è successo hanno chiuso all'olgettino e mi hanno mandato tutte le guaglione qua più ci stanno banchieri responsabili struttura delta p2 p3 e 4 tutto qua questa loggia gloriosa della valratore è diventato un zoo io poi non so neanche che cosa darci da mangiare io non ho mai tenuto nella mia vita un animale non ho mai avuto neanche un pesce russo anzi no veramente negli anni 70 tenevo un pesce russo ma poi la banda della magliana me lo sparò per ritorzione la macchina eccellenza no non te la presto più perché tu poi ci metti la droga no quello del mio fidanzato ma ci siamo lasciati non vi siete lasciati sono due mesi che non ci vediamo ci hai pranzato ieri al ristorante la pagoda tu sai dov'è tu sai com'è tu sai per chi ma lui che non si dà pace dici che mola pace sta arrivando è arrivato il cilipati ora cilipati vuole un posto di responsabilità ora cilipati vuole il ministero dell'omopatia che bel cappello capite anche cilipati vuole un cappello come il vostro che belle ragazze capite no chi la non la puoi toccare te l'ha già già ditta la bulgara è pertosi ripete la bulgara è pertosi dateci la slovena vedete a verdini dove l'ha messa o coordinatore e tu prenditela con la russa che le piglia tutto a calci forza dacci la slovena dai slovena ragazzi non c'è la slovena è andata interrogata dalla signora boccassina ma come andata la boccassini ti ho detto mettici una catena ai piedi la fa uscire così io non lo so cilipati vuole fare l'amore senti trova qualcosa e dici che è una donna siamo a posto gaedana si è scitato grande ho fatto in gol scusa signor volevo chiedere se possibile acconto su liquidazione 2016 perché purtroppo cognato di mio cugino è andata a sbattere ha avuto brutto incidente nelle filippine sta molto male è andata a sbattere contro lo struzzo signor uno struzzo uno struzzo nelle filippine lui signor ma va a cambiare nonna che ha fatto di nuovo mi lasciate fare adesso questa comunicazione in pace per tutti fratello o no ma poi perché vi siete mascherati che significa che questi pezzi nella loggia segreta è un carnevale al buio ma che film avete visto come è triste venezia ballate piano fratello allarme rosso lo sapete perché è successo tutto questo perché abbiamo fatto il colpo di stato più lungo del mondo 17 anni fratello chiano chiano contro l'informazione a legge elettorale anti-democrate 17 anni ancora non abbiamo finito ma avete mai sentito la parola blitz quando avevamo cominciato questo colpo mio figlio faceva l'asilo ora se ce ne parlo mi ride in faccia e poi questi scandali sessuali io capisco ma ha fessa ha fessa ha fessa alla gente ci è venuto il mal di stomaco volevamo colpire il cuore dello stato invece avevamo sbagliato organo allora chiste sono le istruzioni per l'emergenza prima cosa dobbiamo conquistare il voto ricchione allora formigoni già sta facendo con il suo nuovo stilista ma non basta giovanardi ti devi sacrificare giovanardi hai a diventare il vendola di destra giovanardi hai a mettere l'orecchino o ti metti l'orecchino oppure sposti l'anella dal naso all'orecchio ripeto spostare l'anella dal naso all'orecchio se poi non basta richiamare Bertinotti proposta cambiare nome PDL è sbagliato fratelli noi adesso dobbiamo umanizzare non cambiare nome ma aggiungere cognome ripeto aggiungere cognome per esempio PDL russi o PDL di Girolamo che sembrano di noi un vicino di casa un amico e invece poi di foot Milano squadra Pisapia sarà metà donne insinuare Pisapia metà donna immigrati spostare centri accoglienza da Lampedusa a Napoli e tanti auguri a De Magistris per il suo lavoro spostare finto attentatore Belpiedra su finto suicidio Mastella ripeto spostare finto attentatore Belpiedra su finto suicidio Mastella Scaiola prende il posto di Lupi però ci lascia la casa economia la strategia di Tremonti mo l'abbiamo capita risanare tutti i conti e poi vedere chi è rimasto vivo basta mo Tremonti accacciai i soldi se non lo fa rapiteci un parente o peggio ancora chiamate lo stilista di Formigoni processi dobbiamo spiazzare spiazzare scambiare testimoni mettere milza sul processo rubi mettere rubi su fondi neri Mediaset minetti sul lodo Mondatori dichiarare ero l'igienista dentale di De Benedetti spiazziamo cambiare gli schemi milza sul rubi confessare 600 mila euro era io che me la ingroppava spiazzare anche con le riforme privatizzare le quaglie ripeto privatizzare le quaglie informazione vogliono cacciare via Sallusti a me mi dispiace perché a me Sallusti mi piace l'unico problema di Sallusti è che lavora solo la notte perché la luce del giorno ci fa paura allora piuttosto facciamo due direttori un direttore del giorno e un direttore di notte o a proposito attenzione per il cuoco non mettere aglio nei broccoli e Sallusti ripeto non mettere aglio nei broccoli di Sallusti Minzolini invece avevamo detto che se ne va Minzolini guardiamoci in faccia tu la liquidazione l'hai già presa tu sai com'è tu sai dov'è tu sai quant'è eh allora rai passiamo a rai fratello fate scappare tutti alla sette li facemmo andare tutte quante alla sette poi una volta che sono tutte la dinde chiusi la dinde ci abbassiamo il tetto pubblicitario e li schiacciamo come facciamo facciamo una norma la nascondiamo dentro un maxi provvedimento sulla manutenzione dei semafori che nessuna avete la facciamo votare e è fatta la cosa a polpetta avvelenata allora rai ancora ruffini trattamento freccero stanza grande senza porte e finestre digitale terrestre cambiare i numeri dei canali rai più velocemente più velocemente cambiare cambiare fratello vi ricordo perché abbiamo fatto questo digitale terrestre così la gente stava continuamente a risintorizzare risintorizzare e non vedeva chile che accade e chiamma su che media c'è stato di fatturare politica estera politica estera mamma mia che guaia chiamami Frattini signore Frattini non ceppi chiesa a Bruxelles signor oier frate mit god office chiamat yes in uncivilized country your prime minister would have been kicked out of office yes and in uncivilized countries too oh yes italien isti di dittator von einen anfagende idiot yes ma compreviu l'italia ha perdu tu credibilitè oh yes us a devenu la bag dell'europe yes doesn't understand ah anche Scilipati vuole suonare ho pieno forti quindi immerhin che